Con questo tutorial parliamo delle equazioni irrazionali fratte. Allora, vediamo questo esempio. Possiamo fare subito il minimo comune multiplo tra 2 più radice di x e 2. Allora facciamo il minimo comune multiplo ed otteniamo 2 che moltiplica 2 più radice di x da un lato e dall'altro lato. Ora moltiplichiamo 2 meno radice di x per questo 2 e scriviamo 2 che moltiplica 2 meno radice di x. Mentre dall'altro lato dobbiamo moltiplicare 1 per 2 più radice di x e quindi vado a scrivere 2 più radice di x. Ora posso semplificare i denominatori andando a mettere le condizioni di esistenza. Allora, devo andare a scrivere che 2 più radice di x deve essere una quantità diversa da 0, ossia radice di x deve essere diversa da meno 2. Ma questo è sempre vero perché essendo x sotto radice è sempre diverso da una quantità negativa. Quali sono le altre condizioni di esistenza che devono essere verificate? Sono queste, cioè la quantità sotto la radice x deve essere maggiore o uguale a 0. Allora vado a scrivere anche che x deve essere maggiore o uguale a 0. Ora continuo a risolvere l'equazione. Allora facciamo un po' di calcoli moltiplicando 2 per 2 meno radice di x ed ottengo 4 meno 2 radice di x uguale 2 più radice di x. Ora prendo questa quantità e la porto a sinistra ottenendo meno radice di x meno 2 radice di x uguale 2 meno 4. Ora meno 1 radice di x meno 2 radice di x fa meno 3 radice di x uguale meno 2. Posso cambiare segno a tutti e due i membri e dividere per 3. E quindi ottengo che radice di x è uguale a 2 terzi. Per togliere questa radice elevo ambo i membri al quadrato ed ottengo x uguale 4 noni. Ottenuto questo valore devo stabilire se è un valore accettabile. Ora siccome che è maggiore o uguale a 0 allora 4 noni è soluzione di questa equazione. Risolviamo ora questo esercizio. Allora la prima cosa che faccio è il minimo comune multiplo. Radice di 2x meno 1 uguale 0. E allora vado a scrivere 5 meno radice di 2x meno 1, questa quantità che ho ricopiato, per il denominatore. Quindi radice di 2x meno 1 per radice di 2x meno 1. E allora vado a scrivere al quadrato. Ora tolgo il denominatore e immediatamente vado a fare le condizioni di esistenza. Cioè devo andare a scrivere che radice di 2x meno 1, questo denominatore, deve essere una quantità diversa da 0. Inoltre l'altra condizione che devo andare a aggiungere nel campo di esistenza è garantirmi che la quantità sotto radice 2x meno 1 deve essere maggiore o uguale a 0. E quindi vado a risolvere questo sistema di disequazioni. Allora, dalla prima, elevando ambo i membri al quadrato, semplifico, ottengo che x deve essere diverso da 1 mezzo. Dalla seconda, invece, x maggiore o uguale a 1 mezzo. Allora vediamo qual è il campo di esistenza. Per la prima vanno bene tutti i numeri tranne 1 mezzo e quindi vado a indicare così che prendo tutti i numeri tranne 1 mezzo. Per la seconda vanno bene tutti i numeri da 1 mezzo in poi. Allora, i numeri che posso andare a sostituire qui, allora il campo di esistenza è questo, cioè per x maggiore di 1 mezzo. Ho dovuto scrivere maggiore e non maggiore uguale perché qui 1 mezzo non è incluso nella soluzione. Ora continuo a risolvere l'esercizio. Allora, c'è un quadrato e c'è una radice e li posso semplificare ed ottengo 5 meno 2x meno 1 uguale a 0, da cui 5 meno 2x più 1 uguale a 0 e quindi meno 2x uguale meno 6, cambio segno e divido per 2, ed ottengo x uguale a 3. Ora, 3 è una soluzione accettabile perché si trova qui è maggiore di un mezzo ed è la soluzione di questa equazione. Risolviamo quest'altro esercizio. Allora, la prima cosa che faccio è il minimo comune multiplo e quindi il minimo comune multiplo sarà radice di x. Ora, radice di x per radice di x vado a scrivere radice di x alla seconda più radice di x uguale 6. Poi vado a togliere i denominatori e vado a mettere come condizione di esistenza che il denominatore radice di x deve essere diverso da 0. L'altra condizione è garantirsi che la quantità sotto radice deve essere maggiore o uguale a 0. Anche in questo caso devo risolvere un sistema di disequazioni da cui elevo ambo i membri al quadrato e mi esce che x deve essere diverso da 0 per la prima. Per la seconda x maggiore o uguale a 0. Allora, graficamente vuol dire che per il primo caso accetto tutti i numeri tranne 0. Per il secondo caso vanno bene tutti i numeri da 0 in poi. Allora la soluzione sono i numeri maggiori di 0 e quindi vado a scrivere x maggiore di 0. Ora risolvo l'esercizio. Allora, radice al quadrato vado a semplificare ed ottengo x più radice di x uguale a 6. Prendo questa x e la porto a destra ed ottengo radice di x uguale 6 meno x. Per togliere questa radice elevo ambo i membri al quadrato ed ottengo x uguale 36 meno 12x più x alla seconda e quindi scritta questa equazione di secondo grado in forma normale ottengo x alla seconda meno 13x più 36 uguale a 0. Risolviamo questa equazione ed ottengo x 1 2 uguale 13 più o meno quindi b alla seconda 169 meno 144 diviso 2 da cui 13 più o meno radice di 25 fratto 2 ed ottengo come soluzioni 9 e 4. Ora devo stabilire se 9 e 4 sono soluzioni accettabili. Sicuramente fanno parte di questo intervallo però siccome che qui ho elevato al quadrato devo andare a stabilire nell'equazione di partenza se sia 9 sia 4 sono accettabili. Allora vado a sostituire qui prima il valore di 9 e mi chiedo se radice di 9 più 1 è uguale a 6 fratto radice di 9. Da qui ottengo radice di 9 che è 3 più 1 che fa 4 mentre di qui ottengo radice di 9 che fa 3 e 6 diviso 3 fa 3. Allora 9 non è una soluzione accettabile anche se 9 fa parte del campo di esistenza nel momento in cui io lo vado a sostituire nell'equazione iniziale mi rendo conto che non è una soluzione di questa equazione. Perché ho dovuto fare questa prova? Perché qui ho elevato al quadrato ambe i membri e quindi elevando al quadrato ho ottenuto un'equazione di secondo grado da cui posso ottenere più soluzioni questa e questa dell'equazione di partenza. Quindi 9 non è una soluzione dell'equazione. Ora vado a fare la prova con 4. Quindi qui e qui vado a sostituire 4 e mi chiedo se radice di 4 più 1 è uguale a 6 fratto radice di 4. Ora radice di 4 è 2 più 1 fa 3 e mi chiedo è uguale a 6 fratto 2? Ma siccome che 6 diviso 2 fa 3 ottengo un'identità cioè 3 uguale a 3. Allora 4 è una soluzione di questa equazione e vado a scrivere sì. Risolviamo ora questo esercizio. Allora la prima cosa che faccio è minimo comune multiplo. Quindi radice di x meno 1 di qui e di qui ed ottengo radice di x meno 1 per radice di x meno 1 mi fa proprio x meno 1 più x uguale 3 che moltiplica radice di x meno 1 perché questo 3 l'ho dovuto moltiplicare per questo denominatore. Ora tolgo i due denominatori andando a mettere come condizione di esistenza che radice di x meno 1 deve essere diverso da 0 cioè il denominatore deve essere diverso da 0 e poi la quantità sotto radice x meno 1 deve essere maggiore uguale a 0 da cui ottengo dalla prima che x deve essere diverso da 1 dalla seconda x maggiore uguale a 1 e allora se vado a graficare vuol dire che per la prima prendo tutti i valori tranne 1 per la seconda tutti i valori da 1 in poi allora il mio campo di esistenza sarà x maggiore di 1. Continuo a risolvere l'equazione. Allora x più x fa 2x meno 1 uguale 3 radice di x meno 1. Ora per togliere questa radice devo elevare al quadrato ambo i membri ed ottengo 4x alla seconda meno 4x più 1 uguale 9 che moltiplica x meno 1 da cui 4x alla seconda meno 4x più 1 meno 9x più 9 uguale a 0. Scritta in forma normale ottengo 4x alla seconda meno 13x più 10 uguale a 0. Ora risolvo l'equazione di secondo grado ed ottengo come soluzioni. Queste soluzioni fanno parte del campo di esistenza. Attenzione che questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere soluzioni di questa equazione. Ora devo andare a vedere se 2 e 5 quarti sono effettivamente soluzioni. Questo lo devo fare perché qui ho elevato al quadrato ambo i membri. Quindi vado a sostituire qui, qui e qui una volta 2 e poi una volta 5 quarti per vedere se ottengo un'identità. Allora vado a provare con 2 ed ottengo. Siccome che qui ottengo una identità avendo sostituito al posto della x il valore 2 allora significa che 2 è effettivamente soluzione di questa equazione. Adesso devo fare la stessa identica cosa con 5 quarti. Quindi al posto di questa x, di questa x e di questa x vado a sostituire i 5 quarti ed ottengo. Questo fattore lo si ottiene facendo 5 quarti meno 1 che fa un quarto, radice di un quarto è un mezzo. Anche questo vale un mezzo e 5 quarti diviso un mezzo è 5 mezzi. Ora un mezzo più 5 mezzi è 6 mezzi, cioè è proprio uguale a 3. Allora anche i 5 quarti è soluzione di questa equazione. Risolviamo quest'altro esercizio. Allora la prima cosa che faccio è il minimo comune multiplo che sarà 2 che moltiplica x più 1 e quindi ricopio anche dall'altro lato. Devo moltiplicare questa quantità per questa quantità e allora posso scrivere 2 che moltiplica 2x meno 1 per x più 1. Cioè ho scritto questa radice qui sotto usando un'unica radice. Poi questo 2 lo devo moltiplicare per questo 2 ed ottengo 4 più radice di x più 1 per radice di x più 1 e quindi vado a scrivere radice di x più 1 alla seconda. Semplifico i denominatori e vado a fare la condizione di esistenza ponendo questa quantità x meno 1 maggiore uguale a 0 perché sta sotto radice x meno 1 maggiore uguale a 0. Non c'è bisogno nemmeno di scrivere il 2 di fronte. Poi devo mettere che x più 1 deve essere maggiore uguale a 0 perché comunque è una quantità sotto radice. Poi ho un denominatore radice di x più 1 che deve essere diverso da 0. Risolvendo ottengo x maggiore uguale di 1, x maggiore uguale di meno 1, elevo questa al quadrato ed ottengo che x deve essere diverso da meno 1. E quindi rappresento graficamente le tre soluzioni. La prima mi dice che x deve essere maggiore uguale di 1, la seconda x maggiore uguale di meno 1 e la terza mi dice vanno bene tutti i valori tranne meno 1. Quindi è così e qui ci metto una x per dire che il valore meno 1 non è accettabile. L'intervallo comune è questo e allora sarà x maggiore uguale a 1. Ora risolvo l'equazione ed ottengo 2 radice 2x alla seconda meno 1 uguale 4 la radice, con il 2 si semplificano, più x più 1, da cui 2 radice 2x alla seconda meno 1 uguale 5 più x. Ora elevo ambo i membri al quadrato. In questa maniera tolgo questa radice radice ed ottengo 4 che moltiplica 2x alla seconda meno 2 uguale 25 più 10x più x alla seconda. Risolvo ora questa equazione e la scrivo in forma normale ed ottengo che risolta mi dà come soluzioni 3 e meno 11 settimi. Ora, meno 11 settimi non fa parte di questo intervallo della condizione di esistenza, quindi la condizione necessaria per essere soluzione non è verificata. E allora sicuramente meno 11 settimi non è soluzione dell'equazione di partenza. Ora, 3 si trova nell'intervallo con x maggiore uguale a 1 e devo andare a stabilire se è soluzione o no. E allora al posto di ogni x vado a sostituire 3 ed ottengo. Ottenuta questa identità tra numeri, faccio un po' di calcoli ed ottengo 2 uguale 1, che è questo, più 1. Allora ottengo un'identità. Allora significa che 3 è soluzione di questa equazione. risolviamo quest'ultimo esercizio. Allora, faccio il minimo comune multiplo ed ottengo radice di x meno 2 da un lato e radice di x meno 2 dall'altro e quindi 3 meno radice di x meno 2 che moltiplica radice di x meno 2. Semplifico i due denominatori e vado a mettere come condizione di esistenza che radice di x meno 2, essendo un denominatore, deve essere diverso da 0. Poi ho un x meno 2 sotto radice e quindi x meno 2 deve essere maggiore o uguale a 0, da cui ottengo dalla prima elevo a un po' i membri al quadrato e quindi x diverso da 2. Dalla seconda x maggiore o uguale a 2 e quindi per la prima vanno bene tutti i valori tranne che 2, per la seconda vanno bene tutti i valori da 2 in poi, allora il campo di esistenza è x maggiore di 2. Ora qui faccio un po' di calcoli ottenendo 2 che moltiplica 3 radice di x meno 2, ho moltiplicato questo 3 per radice di x meno 2 e poi meno radice di x meno 2 per radice di x meno 2 mi dà proprio x meno 2 e lo metto tra parentesi, da cui 3 che moltiplica 3 radice di x meno 2 meno x più 2. Ora questo 2 e questo 2 li posso semplificare e porto questa meno x a sinistra, x uguale 3 radice di x meno 2. Ora per togliere questa radice elevo ambo i membri al quadrato ed ottengo x alla seconda uguale 9 che moltiplica x meno 2. Scrivo questa equazione di secondo grado in forma normale, quindi x alla seconda meno 9x più 18 uguale a 0. La risolvo ed ottengo queste due soluzioni. Sia 6 che 3 fanno parte del campo di esistenza, quindi verificano tutte e due la condizione necessaria per essere soluzione di questa equazione. Però è una condizione necessaria ma non sufficiente, cioè per stabilire se effettivamente 6 e 3 sono soluzioni, devo andare a sostituire al posto di questa x una volta 6 e una volta 3 per vedere se ottengo un'identità. Allora, provo prima con 6, quindi al posto di questa x vado a mettere 6 ed ottengo 2 fratto radice di 6 meno 2 è uguale a 3 meno 6 meno 2. Ora, 6 meno 2 fa 4, la radice di 4 è 2 e 2 diviso 2 fa 1. E mi chiedo, è uguale a 3 meno 6 meno 2 che fa 4, radice di 4 è 2. Effettivamente ottengo 1 uguale a 1, quindi ottengo un'identità, allora 6 è soluzione. Rifaccio la stessa identica cosa per 3, quindi al posto di questa x vado a sostituire 3 ed ottengo 2 fratto radice di 3 meno 2 è uguale a 3 meno radice di 3 meno 2. Ora, 3 meno 2 fa 1, radice di 1 è 1, quindi 2 diviso 1 fa 2 e mi chiedo se è uguale a 3 meno 3 meno 2 fa 1, radice di 1 è 1. E allora ottengo 2 uguale a 2. Anche in questo caso ottengo un'identità. Allora anche 3 è soluzione di questa equazione. E con questo esempio termino questo tutorial sulle equazioni fratte irrazionali. grazie. grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! Grazie a tutti